Gravi violazioni sulla sicurezza nel cantiere del viadotto di Rassina lungo la strada regionale 71. A scoprire nel corso di un controllo i carabinieri della compagnia di Bibiena assieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Arezzo. Nel mirino il rispetto delle regole per la sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo caso le mancanze sono state riscontrate nei confronti di due aziende. I militari hanno rilevato più di una irregolarità e così è scattata una denuncia ed alcune sanzioni. L'amministratore unico della società che si occupa dell'opera è stato denunciato per violazioni delle normative sulla sicurezza del lavoro. Tra le irregolarità riscontrate la mancata nomina del preposto, l'omessa redazione del piano operativo di sicurezza ed altre gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. È stata poi combinata la sanzione amministrativa di 2.500 euro all'amministratore di una seconda azienda per non aver specificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio. Il cantiere per l'opera pubblica non è stato comunque fermato e i lavori per il completamento stanno procedendo. Grazie.